Se l'amministrazione comunale con in tessa il sindaco Lucio Greco pare intenzionata a non transiggere sulle scadenze per l'avvio del nuovo servizio rifiuti, negli uffici di impianti SRR il tenore è di tutt'altro genere. Greco nella giornata di ieri ha prima chiesto la convocazione di un'assemblea della SRR 4 e poi ha trasmesso una nota ufficiale ai impianti per avere date precise sull'avvio del servizio in città entro il primo febbraio. Il manager di impianti, l'ingegnere Giovanna Picone però, non intende affatto dare riscontro a istanze che al momento giudica del tutto prive di garanzie pratiche a partire dal contratto attuativo che non c'è. Questa nota in realtà ha lasciato un po' tutti stupiti perché dalle numerose riunioni che noi abbiamo avuto con l'amministrazione, con gli assessori e con il sindaco in persona avevamo pensato che fosse chiaro il cronoprogramma dell'inizio di attività e che in questo momento dico l'unica cosa che noi aspettavamo da loro è che ci potessero dare un appuntamento, anzi una data, per poter firmare il contratto attuativo. In realtà noi già il 29 settembre avevamo dato a loro la disponibilità per il 5 ottobre 2022 già con l'appuntamento al notaio preso per la firma del contratto attuativo dove così come avevamo già chiarito sui precedenti cronoprogramma avevamo detto che a tre mesi dalla firma del contratto attuativo avremmo potuto far partire il servizio che quindi era previsto per il primo febbreo 2023 e da lì nasce la proroga con la Tecra fino al fine gennaio. Io voglio soltanto precisare che la quantità dei mezzi e delle attrezzature che servono per il comune di Gela sono particolarmente onerose e che quindi tutto questo, i famosi tre mesi che noi abbiamo sempre tenuto come tempo massimo per poter far partire il servizio era proprio dovuto al fatto che a parte le consegne che hanno avuto i ritardi come sappiamo tutti per il covid dovevamo acquistare una quantità di attrezzature e mezzi non indifferente pur non di meno salta questa data del 5 ottobre, noi continuiamo ad avere una corrispondenza in numerose riunioni con il comune che ci va garantendo di volta in volta che avrebbero risolto i loro problemi che sappiamo essere legati esclusivamente a problemi di bilancio e ci ritroviamo ad oggi ancora senza avere alcuna risposta. Quello del contratto è un punto di rimente, la crisi finanziaria del municipio rischia di mettere una pesante staffa impedendo l'avvio del nuovo servizio. Abbiamo lo stesso affrontato degli investimenti per il comune, abbiamo comprato un parco mezzi che già oggi si attesta circa al 50% della dotazione necessaria, abbiamo il giorno 30 scade la gara per i mastelli quindi avremo da qui a un mese la possibilità di avere già i mastelli aggiudicati, abbiamo iniziato la selezione del personale perché anche se non avevamo nessun contratto attuativo abbiamo previsto all'interno delle figure da selezionare il personale per Gela per essere pronti per partire direttamente con le assunzioni senza dover fare ausilio all'interinale sia perché era stato un accordo preso con i sindacati che assolutamente non dovevamo più utilizzare prestazioni di servizi ma perché ritenevamo opportuno che dovendo fare delle assunzioni partissimo anche dal comune di Gela. Quindi questa richiesta che ci viene fatta oggi dove vuole da noi delle risposte su quali sono i tempi, noi l'unica cosa che possiamo dire è sempre la stessa, dalla firma del contratto attuativo i famosi tre mesi che noi abbiamo sempre stabilito, se poi invece di tre dovessero essere due o uno e mezzo perché noi siamo nelle condizioni di partire prima ben venga ma ad oggi noi non abbiamo nulla su cui iniziare a poter parlare di un inizio di un procedimento, abbiamo soltanto una promessa che stanno risolvendo i problemi e che quindi saranno nelle condizioni di cui non sappiamo quando di poter firmare. Secondo l'ingegnere Picone le iniziative appena intraprese dal sindaco fanno sorgere più di un dubbio, potrebbero essere infatti finalizzate a concentrare colpe su impianti SRR. Ancora oggi mi si viene chiesto quali siano i tempi certi per l'attivazione del servizio a fronte di non so cosa perché per noi ancora è tutta teoria, di pratica non abbiamo nulla quindi ritengo che questa lettera sia un po' manifesti la difficoltà da parte di un'amministrazione a concedere a te che hai una proroga in un contesto molto delicato.